Terzo classificato della categoria veterani, Bezzoli Gianluca, ASD Polisportiva Besanese. Premiamo il secondo di categoria che riceve un coordinato Zucchi offerto da Zucchi Group più una borsa. Secondo per la categoria veterani Gianfrido Francesco, ASD Ceramica e Lemer. Primo di categoria riceve un cesto più del fiorio offerti dal fiorista giudici, è una borsa anche. Magalil Luca, società ASD Fit Monza Cycling Team. Andrea! 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 Ho detto che non fanno più. Cammina! Cammina! Congratulazioni! Intanto che si fanno le foto di Rito, volevo ringraziare le tre Miss che ci stanno cogiovando nella premiazione, Alessia, Serena e Martina. Grazie! 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 Grazie a tutti